A Pettino sono iniziati i lavori di movimento terra tra la Statale 17 e Via Caduti sul Lavoro, vicino al centro commerciale Amiternum, l'area destinata a zone per attrezzature commerciali e centri decisionali. A lanciare l'allarma il comitato Amo Pettino, che non è a priori contro la realizzazione di un ulteriore centro commerciale con parcheggi e centri direzionali che si sta facendo in modo legittimo perché autorizzato, dopo una delibera di giunta, ma insiste piuttosto sulle reali necessità del quartiere. Io qui avevo sempre immaginato un parco urbano, una zona verde dove potersi riunire a livello di socialità, avere dei camminamenti e come me tante altre persone nel quartiere hanno la stessa idea. Vedere che finalmente si iniziano dei lavori, quindi in qualche modo ci si prende cura di un'area abbandonata, però per fare l'ennesimo centro commerciale, 60%, 40% di direzionale, ma insomma ci chiediamo se sia questa la priorità. In tanti e tante sicuramente il comitato Amo Pettino si è risposto che no, non sarebbe questa la priorità. Se veramente si vogliono rivitalizzare le periferie, così come dice l'aggiunta comunale nella delibera che nel 2021 approva il progetto di questo nuovo centro commerciale, secondo noi non bisogna continuare a proporre dei locali commerciali che già ci sono e a volte non sono neanche del tutto utilizzati, che comunque vorrebbero essere sparsi più nel quartiere a livello di piccole attività, ma invece appunto un'area, come dicevo, verde, un'area di socialità dove ci si può anche magari ritrovare proprio per fare delle riunioni come per il comitato e dando a queste quindi la priorità rispetto al nuovo centro commerciale. Il comitato fa pure presente che circa un anno fa in via Anticarischia iniziarono lavori per un'area residenziale mai finiti. Amo Pettino insiste sulla necessità di rideterminare alcune destinazioni del piano urbanistico, del resto non si autorizzò tempo fa un nuovo centro commerciale nella stessa zona, per cui oggi non comprendono questa scelta dell'aggiunta datata 2021.